Allora cari fanciulle e fanciulli, per tutti quelli che vorrebbero perdere il peso in poco tempo vi suggerisco di andare a provare il kit di Herbalive per tutte le informazioni andate qua sotto e fate uff rosso e bop I'm now a legend, my leg is a sprichbende Let me hold on to the war, because I lie under palm I'm now a legend, my leg is a sprichbende